A 126 anni affonda le radici nell'impero austro-ungarico, quindi già dire questo capiamo che forza di valori, di storia, di principi, di ideali ha l'attività che ha messo in campo l'Assati in tutti questi anni. Quindi in questo congresso, che è anche un congresso programmatico perché poi seguiranno altri momenti di condivisione di programmi, di idee e io credo di fronte ad uno scenario che oggettivamente sta cambiando, abbiamo visto cosa è accaduto nei nostri territori una quidicina di giorni fa, io ho visitato situazioni di dissesto dove cadono massi grandi come un'abitazione, questo è stato nei giorni scorsi e quindi anche gli stimoli, io dico i consigli, le riflessioni, gli approfondimenti che la SAT ha fatto in questi anni e farà, che continuerà a fare sono sicuramente di stimolo anche agli amministratori, in primis la provincia. Noi abbiamo iniziato i cinque anni scorsi parlando dell'istate generale della montagna, tra i temi di cui si parlava c'era anche quello del tema della montagna, del tema dell'ambiente, si era toccato anche quello magari meno rispetto alle problematiche che ci sono oggi, quello del cambiamento climatico e quindi su queste sono tematiche che noi dobbiamo continuare ad affrontare e a portare avanti rispetto al mondo che oggettivamente sta cambiando e questo lo dobbiamo seriamente considerare.